buongiorno a tutti cari amici e benvenuti alla puntata di oggi di 58 seconds review la mia rubrica quotidiana in cui come sapete vi parlo degli album che più mi hanno colpito come sempre vi chiedo la gentilezza se vi piace questo format di iscrivervi al canale youtube e se vi va di parlarne con gli amici che pensate possono amare il jazz grazie grazie davvero oggi ho scelto per voi un album pubblicato dalla music gate l'artista che ha realizzato si chiama hiromi kanda è una cantante giapponese e il disco si intitola 7 elegans ballad direi che in questo caso il nome è perfetto perché in effetti l'album contiene sette ballad che sono brani cerebrini della storia del jazz direi che se vi piace il jazz inteso come un viaggio in un club sensuale con pieno di paillette una cantante che canta con una luce soffusa delle canzoni morbide orchestrate benissimo e l'album che fa proprio per voi i titoli sono tutti i celebri brani della storia del jazz ne cito un paio don't blame me e sicuramente da non perdere la versione di moonlight in vermo ciao grazie a domani